In occasione dei 60 anni della fondazione della sezione Avis di Civitavecchia torna l'appuntamento con la festa del donatore. Sì, dal 2007 arriviamo, ecco un pochino tardi, ma siamo arrivati alla festa del donatore nel 2015, 13 dicembre, un appuntamento importantissimo perché verranno ringraziati più di 500 donatori di sangue a partire dalla medaglia di bronzo, d'argento, d'oro e poi avremo la novità delle nuove benemerenze che dal 2008 Avis nazionale, sia per la spending review sia per la mission associativa, praticamente ha stabilito. Quindi le punte di diamante saranno 7, 7 donatori che hanno raggiunto più di 100 donazioni, dalle 100 alle 120 donazioni. Poi avremo il rubino e poi avremo appunto il diamante che è la novità. I donatori quindi verranno ringraziati in questa giornata che è dedicata a loro. Ovviamente noi saremo in appuntamento alle ore 9 con tutte le consorelle, come da rituale a Visino. Saranno più di 50 sezioni Avis del Lazio che verranno a rendere omaggio a Civitavecchia, che è una delle più antiche sezioni appunto locali. E poi ci trasferiremo con il corteo guidato dalla banda Puccini all'Aula Pucci dove appunto si svolgerà tutta la cerimonia. Infine andremo all'Hotel San Giorgio per il pranzo sociale e appunto lo scambio insomma dei rituali a Visini. Dunque questo è il programma dell'intera giornata. Parlavamo insomma di grandi donatori, potremmo definirli così. Qui ne abbiamo uno che è sulla strada giusta. 50, oltre 50 donazioni. Qual è, se possiamo dire, il messaggio che un donatore così incallito, potremmo definirlo, può lanciare alla città? Ovviamente è in dubbio l'importanza del donare il sangue. Il sangue serve sempre, serve soprattutto quando non ci coglie direttamente nei nostri affetti. La regione Lazio è notoriamente sempre in deficit di sangue. Fa capo ad altre regioni e a volte ai noi, anche in territorio estero, per l'acquisto del sangue. Quindi fare un gesto talmente semplice e onorevole, quello di donare il sangue, oltre che far bene al prossimo, ci fa risparmiare anche dei soldi.